Ragazzi oggi vogliamo spiegarvi come risolvere definitivamente il problema del fix dei satelliti Molte volte su G2 e Nexus il fix dei satelliti tende a bloccarsi Per risolvere definitivamente il problema bisogna scaricare GPS status Che troviamo sul Play Store Una volta scaricata l'applicazione e una volta che l'abbiamo avviata Bisogna fare su gestisci stato a GPS Cliccare su ripristina In questo modo verranno cancellati i dati GPS Ora non bisognerà fare su download Ma bisognerà chiudere l'applicazione Vabbè io l'ho messa in background E scaricare questo programma che si trova sempre sul Play Store Che si chiama Top NTP Questo programma permette di scaricare Le configurazioni GPS Quindi bisognerà selezionare Europa Il paese di La nazione di provenienza Quindi in questo caso Italia Va bene Qui ci chiederà Se è un dispositivo in particolare o generico Se non c'è tra la lista metteremo generico E qua vi farà selezionare Le varie combinazioni Ovviamente se avete un LG Un Sony O Vabbè Questi sono Smartphone con operatori americani Comunque se avete un LG Un Sony Ericsson Vi consiglio di cliccare qui Per tutti gli altri dispositivi Google Una volta Una volta installati In pratica Una volta installata tutta la configurazione del GPS Vedete che il vostro GPS Andrà una meraviglia Infatti io ho risolto in questo modo Quello che volevo precisare però E che dalle impostazioni Ricordatevi di dare i permessi A segnalazione della posizione Google Altrimenti Non funzionerà mai Soprattutto anche quando aprite Google Maps Che vi chiede di accettare i termini Su un altro dispositivo Mi era capitato che il GPS Non funzionasse Proprio perché Non appariva la notifica Per accettare i termini E quindi Il GPS veniva automaticamente bloccato Per qualsiasi altro problema Potete lasciare un commento qui sotto O contattarci sulla pagina Facebook Guida Informatica